ciao a tutti ragazzi per i trovati sui rotogas come di consenso vi do il benvenuto alla mia puntata e questa volta verterà su argomenti di attualità come la scorsa puntata però diversamente perché si parlerà ampiamente dei fatti settimanali che sono accaduti in italia quindi si farà riferimento ai giornali quali repubblica quali il corriere della sera e qual si voglia la stampa il messaggero il mattino di napoli il secolo diciannovesimo di genova e così via innanzitutto va detto che questo tipo di format di puntata vorrei che fosse pressa poco lo stesso per le prossime puntate quindi molto probabilmente se a voi piacerà questo tipo di format lo perpetrerò nelle prossime puntate quindi ne farò ampiamente uso diciamo bene cominciamo con la carrellata dei fatti principali che sono accaduti questa settimana quindi parlerò di politica economia cronaca ma anche dei fatti che riguardano il mondo perfetto cominciamo con la puntata ma bando alle ciance si inizia a parlare degli avvenimenti più salienti che riguardano l'agenda mediale della settimana cominciando da un avvenimento molto drammatico che sta avendo la prima pagina di solito di molte testate giornalistiche ed è un avvenimento assai drammatico che sta perpetrando giorno dopo giorno i sempre più morti tra cui anche italiani quindi cominciamo dalla repubblica del 27 aprile il nepal come si si poteva immaginare il premier temiamo 10.000 morti farnesina 10 italiani irreperibili e poi ancora il centro meteo italiano ci dà questa notizia terremoto nepal oggi 27 aprile 2015 scossa di magnitudo 6,7 con morti e feriti poi nuovo terremoto in nepal ancora una forte scossa di magnitudo 6,7 dopo la 7,7 di sabato sale il bilancio delle vittime ma poi ciò che lascia veramente il cuore è anche un po l'amaro in bocca ma di fatto anche la speranza di nuove persone intrappolate dalle macerie che sono salvate e la foto e la notizia nepal il neonato di quattro mesi salvato dopo 22 ore di ricerche direi una foto simbolo che ormai sta spopolando su tutta la rete di questo neonato coperto dalla polvere delle macerie che è stato salvato ma si inizia a parlare dei fatti nostrani quindi fatti più caratterizzanti l'italia in queste settimane il fatto più saliente che rientra in cima all'agenda mediale di questa settimana è sicuramente l'expo come voi sapete ci sono stati cittadini che si sono schierati a favore e ci sono schierati soprattutto contro quindi le manifestazioni che ci sono state a milano e non solo sono state riportate da tutte le testate giornalistiche italiane per esempio la stampa il 30 aprile corteo no expo vigilia ritenzione a milano lancio di pietre fumogeni e vetrine imbrattate lite tra gli studenti e black block ma poi ancora espone bandiera italiana colpito da uova dai manifestanti ovviamente e ancora il primo maggio ci sono state altre manifestazioni questa volta pacifiche quindi milano proteste davanti ai cancelli di expo i no expo hanno manifestato pacificamente in coincidenza con l'apertura dell'esposizione universale corriere tv ma ovviamente questa esposizione universale questa esposizione di carattere internazionale che sicuramente dal mio punto di vista è molto positiva perché comunque permetterà all'italia di essere rivalutata da molte nazioni del mondo è iniziata appunto il primo maggio parte l'expo i cancelli aperti visitatori la stampa prime proteste tensione davanti agli ingressi una notizia invece che riguarda l'isis è la voce sulla morte del califo al bagdali infatti l'ansa riporta isis ancora voce in rete sulla morte del califo al bagdali ma spostandoci di nuovo in italia riguardando fatti nostrani che sono accaduti in questi giorni che comunque sono degni di nota contraffazione sono sudamericani il pecorino laziale e il salame milano federe alimentari una direttiva europea esime di fatto produttori all'obbligo di indicare lo stabilimento di produzione questo del corriere della sera poi un'altra notizia invece piuttosto curiosa sempre del corriere firenze la prima cannabis di stato coltivata dall'esercito le prime immagini dello stabilimento militare dove si coltiva la marijuana a scopo terapeutico ed ora l'economia una notizia tratta dalla repubblica di carattere economico il lavoro negli anni della crisi l'italia paga il conto la disoccupazione è cresciuta del 108 per cento tra il 2007 e il 2014 nel nostro paese è aumentata più del doppio rispetto alla media web in germania invece è diminuita di oltre il 40 per cento gli effetti della duplice ondata di recessione sui giovani siamo diventati lo stato membro con la più alta percentuale di 15 anni 24 anni senza impiego e che non studiano pure la polveria ci ha superati produzione industriale ne abbiamo perso un quarto per strada ma ora si passi al calcio una notizia drammatica da trattare la corriere della sera dramma in campo muore per infarto gregory mertes giocatore 24enne del campionato belga invece il calcio italiano derby della mole assalto ai bus della squadra e scontri 11 tifosi feriti bombe carta contro la maratona vetro del pullman dei bianconeri rotto con un sasso cinque arresti e tre denunciati poi ancora sempre il calcio il milan corriere della sera 500 milioni per il milan mister b ha presentato la sua offerta il magnet tailandese quattro ore ad acore a casa berlusconi per parlare della cessione della squadra e perseguire la partita contro il gemma e spostandoci invece al sud una notizia che riguarda napoli apparsa sul mattino riporta viaggi religiosi da oggi da napoli c'è il volo per l'urde invece una notizia apparsa sulla repubblica che riguarda milano milano parata di star per i 40 anni di carriera di armani ci sono anche di caprio e cruz invece per quanto riguarda il tema innovazione una notizia apparsa sul correre della sera bici con telecamera e sensori retrovisori per avvertire il ciclista del pericolo che arriva da dietro una telecamera sotto il sellino che controlla il traffico alle tue spalle e la sella safe bike inventata da un costruttore emiliano di bici elettriche dopo un incidente costato di un brutto volo sulle strade di reggio emilia 40 anni fa ossia il 30 aprile del 1975 finiva la guerra in vietnam la repubblica in questa settimana dunque il 30 di aprile del 2015 ha voluto ricordare tramite una storiografia tutti i momenti rappresentativi ossia storici che riguardarono la guerra in vietnam come tutti sanno questa settimana è stata la settimana in cui si è festeggiato il primo maggio come consuetudine vuole anche quest'anno si è festeggiato tramite il classico concertone a roma in onore appunto della festa dei lavoratori anche lo stesso presidente del consiglio si è espresso a riguardo sulla repubblica infatti appare un suo commento a caldo primo maggio mattarella lavoro è la prima priorità il presidente ha parlato alla cerimonia dei cavalieri del lavoro al Quirinale l'italia ce la farà tenendo alti valori della democrazia la festa del lavoro deve risvegliare speranze ed impegni condivisi ma per farlo deve basarsi su parole sincere e poi ancora è la prima delle priorità non ci riassegniamo e non ci scoraggiamo il lavoro sia per tutti ha aggiunto è la costituzione che ci dice che non dobbiamo mai rassegnarci ma la festa dei lavoratori non si festeggia soltanto in italia come si potrebbe pensare ci sono anche altri paesi in cui è stata festeggiata molti paesi infatti la repubblica riporta alla voce esteri delle notizie riguardanti il primo maggio che sono accaduti in altri paesi primo maggio scontri in Turchia e Corea del Sud a Weimar assalto neonazista al corteo scontri a Istanbul e Seul in Germania feriti lieri e termino con un'ultima notizia prendendo per la prima volta in questa puntata il quotidiano il secolo XIX di Genova una notizia diciamo esterna agli avvenimenti di questa settimana ma che comunque reputo piuttosto grave da un certo punto di vista Genova calano i matrimoni e aumentano i divorzi l'esperimento di rotocalco settimanale termina qui e io vi invito mandandovi innanzitutto un saluto a esprimervi nei commenti qua sotto e lasciarmi un feedback di modo che io possa sapere se questo tipo di format vi piace oppure no vi invito a iscrivervi qualora non foste ancora iscritti a questo canale e condividete il video mi raccomando lasciate un pollice in su se vi è piaciuto oppure certamente anche un pollice in giù io spero il pollice in su ciao a tutti alla prossima puntata ragazzi rotocast e viva il rotocalco settimanale grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti